Inferno in piazzale Bologna tra droga, sporcizie e violenza. Ricordate? I residenti ci avevano mostrato questi cartelloni elettorali dove di notte si riparavano dalle telecamere di sicurezza decine di stranieri, molti pusher, tutto documentato. In queste fotografie si vede tutta questa zona che si crea dietro questi cartelloni pubblicitari e tutta un insieme di persone con le biciclette, alcuni sono in piedi, alcuni stanno vedendo, altri stanno andando nella fotografia già a consegnare la merce. E dopo il nostro servizio il consigliere comunale Claudio Cicero aveva presentato una mozione. Devono essere spostati, rimossi da quel punto perché le manefatte vengono nascoste proprio dai cartelloni. Bene, ma noi non ci eravamo fermati qui, avevamo preso un impegno ben preciso. E prendiamo l'impegno di andare a chiedere conto di questa situazione alle autorità competenti perché si trovi una soluzione. Detto fatto avevamo chiesto all'assessore alla sicurezza di rimuovere i cartelli e lui ci aveva assicurato che possa essere una cosa fatta in breve tempo. E oggi rieccoci qui in Piazzale Bologna ma c'è qualcosa che è cambiato, c'è più luce, mancano i cartelloni pubblicitari che finalmente sono stati tolti, sarete contenti? Siamo estremamente contenti grazie a Rete Veneta che è riuscita a sensibilizzare e a portare questa nostra problematica in giro per il Veneto. In effetti i nostri servizi avevano fatto il giro del web, erano stati cliccatissimi raccogliendo su Facebook più di 181.000 visualizzazioni. La situazione è migliorata grazie anche a voi e a tutti coloro che ci sono interessati. Allora per il momento possiamo dire missione compiuta però se ci fossero ancora dei problemi di sicurezza qui in Piazzale Bologna chiamateci che noi torneremo. Aspettiamo e speriamo. Grazie a Rete Veneta.